Buongiorno a tutti, mi presento, sono Alessia e studio Economia alla Sapienza di Roma. Sono venuta qui per seguire il seminario di Luca Bete, non ci ferma nessuno. È stato molto interessante e mi ha colpito particolarmente una frase, che è quella di curare comunque non soltanto il nostro aspetto esteriore, ma soprattutto il nostro aspetto interno, curare comunque la nostra anima per continuare a coltivare i nostri sogni e soprattutto ambire ad essere persone oneste e per bene, che è quello che credo e cerco di mettere nel mio piccolo ogni giorno e quindi penso che sia stata comunque una spinta in più. Non ci ferma nessuno!